molto ma mi sono piaciuto la sfida con la roba che vorrei recitare hai tu questo da cantare? recitare? guardali, guardi quelli qua ciao no, adesso ti fanno recitare allora, per Viva Rai 2 off non so cosa possa recitare ci pensate voi? ci vediamo lunedì? posso venire con voi? su Viva Rai 2 no, no, lì no eh, dai buongiorno oh, per farle vedere caffè eccola su, scusami, no adesso non vorrei scusate è arrivato no, ragazzi cioè non vale il compleanno di 50 anni quando passa fiore, ragazzi c'è glissa, c'è glissa guarda che sicile, oh la bella firma beh, ok grazie ancora, dai grazie a tutti